Il volo che sembrava impossibile è invece riuscito. Pantanico stringe Urric ad abdicare. A L'Edesalp il tour finisce nelle mani del pirata, che arriverà a Parigi in giallo, centrando l'accoppiata col giro nella stessa stagione, come riuscì a un solo italiano, Fausto Coppi, nel 1949 e nel 1952. 33 anni dopo Gimondi, il tour è azzurro. È la quindicesima tappa da Grenoble a L'Edesalp, dove sta piovendo la situazione al comando. Qui si può decidere il Tour de France. Salita doppia scalata, Colla du Telegraf, Galibier, Le Blanc rompe gli indugi. Appena cominciata la salita, dopo appena un chilometro e mezzo, sempre davanti sei. Pantani è a centro gruppo, è vigile, brillante. Pantani che ha avuto un incidente, una scivolata, per fortuna senza conseguenze. Ed ecco ancora un attacco degli uomini della Cofidis. Cofidis in gran spolvero. E tra poco, secondo me, scatterà Bobby Jarek insieme a Pantani. Pantani che con ogni probabilità, come al solito, farà l'affondo, affondo che noi ci auguriamo sia decisivo, sullo strappo finale. Io penso che possa attaccare sul Galibier. È il pezzo più difficile, più duro. Adesso c'è questa salita, 11 chilometri, Colla du Telegraf. I primi 3-4 chilometri ha una pendenza dell'8-9%. Poi il Galibier, che è lungo 12 chilometri, da 1.420 metri, bisogna salire ai 2.605 metri. Quindi 1.200 metri di dislivello. È una salita vera, una salita lunga. Ci sono delle immagini di Pantani che non potrò mai dimenticare il Galibier. Quando attaccò sotto la pioggia e andò a conquistare la maglia gialla, le Deux Alpes. Attenzione, un'azione molto importante. Lucre Blanc lancia l'attacco. In seconda posizione c'è la maglia gialla. Pantani con Babi Iolei pronti ad intervenire. Può essere questo il momento decisivo? Io penso di sì. Pantani in mani basse. Ulrich continua a voltarsi. Ormai da solo potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, di fatti parte. Ecco parte Pantani. Attenzione, l'atteso scatto di Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Però vediamo che si volta. Vede che sta arrivando qualcuno. Aspetta, aspetta Leblanc. Aspetta Leblanc che si è voltato, ha rallentato. Ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano. È la prima volta forse che Pantani dà una dimostrazione di grande intelligenza tattica. Parte, riparte Pantani. Pantani che ormai nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto. Sta calando, addirittura sta perdendo molti secondi. Prosegue nella sua azione. Altro passo. Pantani, un altro passo. Una legnata, sta dicendo Cristiano Gatti. Una legnata incredibile. Nessuno ci ha provato. Luc Leblanc ci ha provato. Escartin non sono riusciti a mantenere il ritmo. Signori, quando questo ragazzo scatta, non c'è dietro da fare. C'è dietro da fare. Signori, quando questo ragazzo scatta, non c'è dietro da fare.